Lo chiamavano il re delle commodity, un pioniere del commercio internazionale, di materie prime. Mark Rich è morto a Lucerna all'età di 78 anni. Personaggio controverso e fuori dalle righe, Rich non viveva certo in Svizzera per il panorama. Nato in Belgio da una famiglia ebrea, emigrato negli Stati Uniti per sfuggire al nazismo, nel 1983 era stato costretto a scappare poche ore prima di essere incriminato per oltre 50 capi d'accusa, tra cui frode ed evasione fiscale. Con la sua società commerciale era riuscito a partire dagli anni 70 a deludere l'embargo sul petrolio arabo e poi su quello iraniano, comprando e successivamente rivendendo alle compagnie americane al doppio del prezzo. Scappato alla cattura in numerosi paesi, ha ricevuto il perdono presidenziale da parte di Bill Clinton soltanto nel 2001. Miglior destino ha avuto la sua azienda, venduta nel 1993. Oggi si chiama Glencore ed è il più grande gruppo per il commercio di materie prime del mondo, con un fatturato da oltre 200 miliardi di dollari.